Successo interno è poker per il Savio di Bonanni che batte tra 4 a 0 la polisportiva Carso di Delprete nella quinta giornata del girone B, campionato giovanissime di fascia B, doppiette per Fravolini e Di Lauro e vittoria convincente da parte dei plus. E il Savio a fare da subito il match con una compagine pontina, parsa timorosa al quarto e da angolo che i plus sono pericolosi, ma plus ti manda alto. Savio che insiste e si rende ancora pericoloso all'ottavo minuto con Palamara il cross a centroare di rigore batti e ribatti nell'area di rigore della polisportiva Carso, poi portiere degli ospiti che riesce a sventare la minaccia parando in presa bassa. Savio che concretizza il possesso al 14esimo, prima c'è però l'azione di Palamara e il tiro del numero 2 che si perde sul fondo, gol che viene allora due minuti più tardi, calcio ad angolo e sarà perfetto Fravolini in ribattuta a battere il portiere ospite per l'1 a 0 che manda in vantaggio il Savio. Reazione dei puntini caduta nell'azione di Cifoni che sul vito centrale manda alto la ghiotta occasione da parte della formazione pontina, ottima l'azione da parte di Cifoni che riesce poi a trovare anche l'assit da parte del compagno. Raddoppio invece al 29esimo ancora Fravolini a segno e doppietta personale sul sedimento da parte del numero 11 in maglia blusa. I gol prima dell'intervaldo diventano anche 3 quando Di Lauro non può sbagliare dopo il passio dopo errato assist da parte della dipinta dei puntini. 3 a 0 e così si, praticamente la prima frazione. La ripresa si apre con ancora il Savio in attacco Fravolini manda a lato. Reazione dei puntini che stavolta sono pericolosi davvero con Gesmundo entrato nella ripresa ma palla che termina sul fondo, poi il poker da parte del Savio al nono minuto ancora Di Lauro e doppietta anche per il numero 9. Finale con due azioni degli ospiti, prima con un batti e ribatti risolto dal portiere di casa dopo la conclusione da parte della polisportiva Carcio, quest'oggi in maglia rossa. Poi ancora Gesmundo verso la parte finale del match manda ancora a lato, ultima vera occasione. Savio, polisportiva Carcio, 4 a 0, per ora meglio i blusa.